Buongiorno a tutti. Allora, magliettina nerazzurra con stellina, stella, stellina, ma si spera che diventino due le stelline. Intanto abbiamo stellini in panchina, ma si spera che le stelle diventino due l'anno prossimo, si spera. Sperare non costa nulla, intanto una l'abbiamo messa in saccoccia, lo scudettino in tasca, quindicesima vittoria consecutiva in casa, aumenta il record, si migliora sempre più il record e la prossima in casa sarà con l'Udinese e non diciamo niente perché l'Udinese spesso e volentieri ci ha rovinato le uova nel paniere, spesso e volentieri c'era la prima di campionato interudinese che terminava 1 a 1, 0 a 0, poi dopo andavamo magari anche a vincerlo lo scudetto, però l'Udinese rompe un po' i testi. Poi c'è stato un Inter Udinese quando non contava più niente, vincemmo addirittura 5 a 2, vedremo cosa succederà. Comunque quindicesima vittoria dell'Inter consecutiva, andiamo a vedere un attimino come sono andate le cose perché l'Inter passa subito in vantaggio, sembrava che la Roma volesse prendere campo eccetera, prima azione un attimino cattiva dell'Inter, cross basso di Darmian e Brozovic di prima intenzione spiazza, 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 spiazzie, spiazza il povero Fusato e porta in vantaggio l'Inter. Non facciamo in tempo ad esultare per l'1 a 0 che arriva anche il secondo gol. Lucacone in area addomestica al pallone, lo tiene lì, se lo coccola, vede arrivare Vessino, gliela passa bella precisa e Vessino anche lui fulmina il povero Fusato. Tra l'altro c'è da notare che è la cosa che mi fa imbestialire Kasdov. Allora sei davanti a Vessino, cosa salti? Salti e per di più ti metti di lato. È saltato praticamente, scusate, così, lateralmente davanti al pallone, quindi occupi ancora meno spazio. Perché? Perché se no magari mi prende nella pancina, mi prende nelle palline, mi faccio la bua, allora si girano, no? E la palla gli passa sotto e il povero Fusato curucù. Poi la Roma accorcia le distanze con Mkhitaryan ben servito in area da Zeko e il primo tempo termina 2-1 con qualche occasioncella in più dell'Inter tra cui un ancora Vessino servito in area che si fa respingere il tiro dal buon Fusato. Stavolta è stato bravo, è uscito bene, gli è uscito proprio bene incontro, gliela ha respinta e qualche altra occasioncella che mi sfugge ma non sto lì. Nella ripresa la Roma gioca meglio, gioca sicuramente meglio, c'è un bel colpo di testa di Cristante, la traversa di Zeko dal limite dell'area, un bel tiro a giro che praticamente si controlla, si gira, tira, traversa o incrocio dei pali che dir si voglia. Una volta tanto la prendono anche gli altri, i pali mi sembra anche giusto e poi all'ultimo minuto praticamente con la Roma sbilanciata c'è Chimi che se ne va, palla al piede e poi davanti al buon Fusato serve Luca Cone che deve solo spingerla in rete, fa il col del 3-1. Oggi è stata più dura perché comunque la formazione non era titolare, anche se avevamo due difensori su tre che sono riserve, che sono D'Ambrosio, Ranocchia e Skrignan, il portiere di riserva. Sugli esterni c'era Perisic che mi sta bene perché comunque è tendenzialmente titolare, dall'altra c'era D'Armian che è il sostituto di Chimi. A centrocampo hanno giocato Brozovic, Barella e Vessino che comunque sta migliorando a vista d'occhio, anche se poi si è visto che non ha i 90 minuti nelle gambe, sta rientrando da un infortunio, ma credo che sarà il nostro piatto forte per il mercato, cioè l'unico giocatore che forse ha ancora un ottimo mercato e lo puoi offrire a qualche squadra per avere magari qualche giocatore valido, perché comunque andrebbero a prendere un giocatore che è ancora integro, che può dare ancora tanto, a meno che Conte non cambi idea e decida di tenerlo, perché comunque il Vessino visto in queste ultime partite non è niente niente male, anche se comunque, ripeto, non ha i 90 minuti delle gambe. Chi ho visto un po' Sgnaus-Sgnaus è... Allora, innanzitutto Sanchez è uscito al 32esimo perché gli ha dato un pestone. Spero che sia solo una botta e non che mi dicano se il campionato è finito per Sanchez fuori un mese e mezzo, perché vabbè ormai il campionato è finito, però se ogni volta che lo prendono duro mi sta fuori due mesi, non va mica bene. Comunque oggi devo dire che la Roma picchiava abbastanza, ecco, diciamo che ha picchiato abbastanza. È entrato Pinamonti al posto, poi dopo è entrato Pinamonti al posto di Lautaro, perché oggi Lautaro è entrato un attimino scazzatello, perché mi sa che ci aveva voglia di giocare, sapere che non giocava, ci è rimasto forse un attimino male, ma giustamente, visto e considerato che oggi Lukaku... Lukakone oggi è un po' così così, giustamente Conte gli sta facendo variare, un po' uno, un po' l'altro, proprio perché vede che siamo a fine stagione e forse, forse non sono al 100% tutte e due, anche se nell'ultima domenica Lautaro e Sanchez hanno fatto l'ira di Dio. Diciamo che quello che forse è più in palla è Sanchez, ma ahimè me l'hanno disintegrato. Barella è il solito motorino amoroso, trottolino amoroso, motorino amoroso. Brozovic ha fatto il suo bello tranquillo, Vessino l'ho visto bene, Perisic oggi... sta diventando troppo difensore, sta diventando troppo più difensore che non attaccante, anche quando si trova nel cercare di saltare il difensore, lui puff, si fa uccellare sempre. Darmian tanta roba, anche oggi un assist, poi si inserisce sempre coi tempi giusti, eccetera. Lui e Achimi sono una certezza per la fascia destra, che sarebbe di qua, ma se mi vedete, se mi giro, la destra resta di qua. Visto così, sinistra, destra, ma se mi giro è l'opposto. Comunque, stavo dicendo Darmian e Perisic un po' bene in fase difensiva, un po' meno in fase offensiva. Darmian bene sempre. Ho visto un ottimo Ranocchia, tra cui un intervento a volo d'Angelo a salvare il Sciaravi, su un cross che arrivava dalla sinistra dell'attacco della Roma. Cross in mezzo, lui che vola e va ad anticipare di testa il Sciaravi, poi si scontrano vicendevolmente. Ho visto un Pinamonti che si è mangiato un gol, perché praticamente il giovincello della Roma, Mandor, Mandorli come cavolo si chiama, lo serve praticamente in area di rigore, lui prova il pallonetto. Io ste puttanate non le sopporto, io ste puttanate non le sopporto. Ti passa la palla, tiri dentro una mina, all'incrocio dei pallonetto, ste cose da fighetta. Pem, bello secco, perché se magari la Roma pareggiava, è vero che non ce ne frega più una beata Giovanna. Però siccome ci tengo ad arrivare a fare, che ne so, 30 vittorie in casalinghe di fila, non sarebbe male, no? Finiamo quest'anno con 16, l'anno prossimo si riparte, ne fai un'altra quattordicina nel girone di andata, ne non sarebbe neanche male, arrivi a 30, poi fai un pareggio, poi ne fai altre 30. Magari, magari, vedremo però per ora 15 vittorie consecutive, record. Penso che Conte vorrà arrivare anche a 16 e poi vedere un attimino l'anno prossimo come andrà. Ma dipenderà anche dal calendario, da tante cose, eccetera. Radu l'ho visto abbastanza bene, a parte l'incrocio dei pali di Zecco, non è che ha dovuto fare chissà che interventi, anche se la Roma ha tirato 20 volte in porta contro le 16 dell'Inter, però, francamente, non ho visto delle paratone, tutti i tiri che ti tuffi e le blocchi. Ha dovuto fare un paio di uscite, di cui una su Zecco, ma stava chiudendo anche la Nokia. È uscito un po' alla Neuer, per intenderci, quindi stando in piedi, eccetera, e poi gli ha rispinto il tiro. Ma poi, per il resto, tutti i tiri abbastanza telefonati, niente di eccezionale, nessun tiro rispinto. Ha fatto un'uscita su un cross di pugno alto. Lo vorrei vedere in altre partite, adesso vedremo se gli... Sicuramente con la Juve non penso che giocherà lui, tornerà in porta a Andanovic, eccetera, eccetera. Comunque, dai, diamo i voti di questa partita che, ripeto, serviva a noi per migliorare il record di vittorie casalinghe. Eris è considerato che il Sassuolo ha perso anche lui 3-1 con la Juventus, tra l'altro sbagliando anche il calcio di rigore. Berardi ha sbagliato il rigore. La distanza resta sempre di due punti, a questo punto però la Roma è ancora a rischio, perché la prossima partita è il derby. Roma-Lazio con una Lazio che ha vinto al 95esimo contro il Parma. Una cosa scandalosa, non so cosa sia successo a questa Lazio. Sembrava bella carica, sembrava... è in caduta. Mi perde 2-0 con la Fiorentina malamente, vince 1-0 col povero Parma che ne ha presi 5 dall'Atalanta. Boh, vabbè. Comunque, Radu 6, senza infamia e senza rode. Scrignan, Ranocchia, D'Ambrosio, 6,5 tutti e tre. D'Armian, 6,5 per Isis 6. Brosobi, 6,5. Barella, 6,5. Vessino, Gidonbel, 6 al 7, anche per il gol. Poi, Sanchez, 6,5. Lukaku, 6. 6, sì, anche per il gol che ha fatto, perché comunque... Oggi aveva contro un paio di difensori bravini, soprattutto Mancini, ma anche Cumbulla hanno fatto un po' i mariani, i magnani per intenderci. Fallettini furbi, un Kiffi che spesso e volentieri chiudeva un occhio sugli interventi dei difensori della Roma, perché un paio di volte gli è andato via. E lui ha messo il fisico, Cumbulla, e gli ha rimbalzato ad ossa e non ha voluto dargli il fallo. Però Lukaku gli ha fatto il tunnel. Se ti metti davanti, fa il tunnel, ti metti davanti, dunè, giallo, che cosa. Poi c'è stato, vabbè, il buon Sanchez che era andato, stava andando in porta e Santon l'ha tirato giù. Ma anche lì, caro Sanchez, si resta in piedi e vai avanti. Poi ti caschi in aria. L'obblighi a farti un altro fallo e caschi in aria, non come ti mette la manina sulla spalla. Puff. Va bene. Punizione giusta, non era giusto il rosso. Qualcuno ha chiesto il rosso, ma c'era un altro giocatore della Roma che rinculava. Anche se era Pedro che con la difesa c'entrava poco, però giusto così. Per quanto riguarda i giocatori che sono entrati, a Lautaro do un 5,5 perché non mi è piaciuto. A Pinamonti do un 5,5 perché quel gol lì tu lo devi segnare. A Sensi do 6, a Chimi do un bel 6,5 perché è entrato in campo proprio con voglia di giocare ed era sempre lì a farsi vedere sulla fascia, a darsi da fare sulla fascia. Quindi 6,5 anche da Chimi. Iang 6, senza infamia, senza rode. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi piacciono i voti che ho dato, eccetera. Se anche voi pensate che si può arrivare a fare un bel filotto di vittorie partendo già tra dieci giorni quando giocheremo in casa coludinese per la sedicesima vittoria a Casalinga e poi col nuovo campionato che riparte, le sedici vittorie proseguono, quindi avremo tutto un campionato per poter arrivare a una cifra da libidine. Non dico 30 partite di fila vinte, perché prima o poi un pareggio lo farai. Però se il calendario lo consente, altre 6 vittoriette di fila in casa potrebbero anche starci, arrivare 22-23 vittorie a Casalinga di fila, libidine. Vedremo, vedremo, vedremo intanto, signori miei, quest'Inter continua a fare regolo, quest'Inter che gioca male, quest'Inter che fa pena, quest'Inter di qua, quest'Inter di su, quest'Inter di giù. 15 vittorie Casalinghe consecutive. Non so se rendo l'idea, però giochiamo male. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!